Fammi capire un secondo, ah ok, ok se mi lancio di qui Ti è un coglione E ciao a tutti ragazzi sono Adri, bentornati sul mio canale, siamo ancora qua con GTA 4 The Battle of Gay Tony Siamo sulla coda della missione scorsa E oggi, ancora una volta, andremo da Yusuf Amir Che dopo Sexy Time, una missione assurda ci dà un altro bel lavoretto da fare Ovviamente ragazzi, like al video, iscrizione al canale, tutto quanto Mi raccomando Brutto l'appartamento di Yusuf, eh no, bruttissimo Dai, su, iDrive, come annunciato nella missione scorsa You tell him I don't care A billion dollars is chump change What does a billion dollars buy anyway today? Doesn't even buy a million dollars No, you tell him that You tell him Yusuf Amir is speaking That name does mean something in this town One second, hello, scusami Hello Hello, who is this? Papa! Papa, how are you? Papa Babbo Cioè, babbo It's a gift Prettamente toscano, ma babbo ci sta I did Well, I didn't pay for it, so you didn't Papa, it's complicated I miss you, Papa I do Yes, I'm close to closing the deal The biggest tower You're going to be so proud of me Well, ten million dollars is maybe a little bit too much to spend in a month But it was necessary Papa, no, that's not fair No, 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 that Papa, they're not prostitutes They're loose women Papa, hello, Papa Hey, it's you, my friend, how are you doing, how are you doing? What's up, Papa? Chavo with your old man No, it's my father Okay, yeah, found it can be tough, man It's a very conservative man He doesn't understand what I'm doing here Think my life is one long party A reckless orgy of sex, drugs and spending Really? He's delu- This qua, praticamente, anche se non si droga Anzi, penso sui droghi malissimo Già non è normale senza droga Figuriamoci con la droga Come è vero che se i soldi te la danno tutti Mamma mia Non rosico perché Non sono in fase di bisogno, però Che cazzo Pare un disgraziato Tolto a quell'orecchino il telefono I live with you They're very, um, what's the word, um, tacky No taste I mean, I love those guys, but seriously, come on Okay, well, I guess I'll see you later then No, 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 hey You're coming with me, baby You need to hang around You gotta act like we're friends Shit We are friends, baby Make out that we got shit going down Going down, my nigga Anyway, let's go It's bounce, baby When I say bounce I don't mean bouncing little I just mean I know what it means It's a turn from the street Meaning we have to walk But if you don't get that It's a bit like a Ah, c'è da camminare di nuovo? Batman rolling Can we just go? Cruise on up to Rotterdam Tower Ah, okay, non c'è da camminare Quanto vuole la sua macchina Ma riuscirò ad averti prima o poi Dai che tra poco è giorno, su Odio GTA di notte In realtà odio praticamente tutti i videogiochi ambientati di notte Anche FIFA, quando gioco di sera Mi scogliono dopo un po' A me piace il giorno, la grafica, l'illuminazione Mi piace un sacco di cose Poi alba e tramonto nei videogiochi, ragazzi Sì, sono proprio il top del top Assolutamente Ok, ci siamo Non mi ammazzare che sei mio amico Godo Ti è schiantato Non sono qua per ammazzare te Almeno non ora Non sembrava una porta varicabile In realtà lo è Oh, forse ho capito di che missione si tratta Oh sì, oh sì, oh sì Ragazzi, questa missione Se è quella a cui penso E potrei sbagliarmi Però siamo alla Rotterdam Tower Mi ricordo che nel 2012 Feci solamente il filmato Col telefono Alla tv Sulla PS3 Della parte finale E ottenni un botto di views C'è una cazzata assurda Col canale vecchio Che poi mi chiusero Perché tipo pubblicare due film Eh, però dovrei ammazzare i piccioni Però sono in missione Mi sfanculano se lo faccio Insomma Mi chiusero il canale A 500 iscritti Perché tipo pubblicare album Interi musicali Pubblicare film Perché per me YouTube Era Emule parte 2 Ma YouTube Non era d'accordo Quindi Come giù Aspetta, aspetta, aspetta Prima di suicidarmi Fammi capire un secondo Ah, ok Ok, se mi lancio di qui Sei un coglione Sei un coglione Cioè, potrei tranquillamente Fare la capriola Però vabbè Ecco Ahmed Vediamo cosa ha da dirci Oh, com'è da buttarci La del culo Perché potrebbe starci A Troia Mi toglierà anche risposto Lo butta, lo butta Che poi sarebbe già morto A primo colpo E invece no Ecco cosa volevi No, invece è ancora vivo Merda Aspetta Aspetta Ho bisogno di ripararmi un secondo Ma non Ma che devi riparare lì Dove sono le armi Ok Fuori uno Ah, la via è istruita Perfetto Mmm Top Ce l'ho Che cazzo è sparato Un colpo Ed è bastato Adio, scatti anche no Grazie Che sono già in difficoltà Perché ho poca vita Fanculo Via Regà C'è un bug C'è un problema E il problema È che l'elicottero È crollato in mezzo Alla via Ma invece lo possiamo raggirare Che bello C'è un giubbottino Bravo Ricarica Preso Vai Ok 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 No Un altro Devi cogliere il pilota Devi cogliere il pilota Ok 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 A posto Ma gli estremi Stai rimedi In realtà era Bevi i rimedi Però Zii lo so come si utilizza Una scala Grazie Ok Quando arriveremo lassù Nasceranno diversi problemi Credo Non sei per niente Non sei per niente Non sei per niente sgamabile Merda 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 Dov'è l'arma E comunque E comunque Non mi cogliere E comunque sia non mi coglie Vieni Ciao Non mi cadere addosso Grazie Poteva andare meglio Ma poteva andare anche peggio Assolutamente Cazzutissima sta missione Cosa vuoi te? Morire Principalmente quello vuoi? Ce la fai a ammazzarlo Eh La puoi far Ok Ne basta uno giù E uno su principalmente Si aspetta che mi sposto Qua che cambia l'arma Adoro Non si è mai preparato Per questi colpi qua Merda Dov'è? Giù No Giù un cazzo Praticamente Devo Riscendere tutto Per ammazzarne uno No Se si è buggata la missione Urlo Se si è buggata la missione Urlo Se si è buggata la missione Urlo Cioè mi toccherebbe Buttarmi di sotto E' fatto il piccione Gabbiano Vabbè Dov'è? Ok è sparito Buono Poi Ora E' coperto dalla facecam Quindi non lo vedete Però Spero siano macchine Quelle Sì Io ho 4 stelle E Ho combinato il tripo del casino Che combinerai normalmente In free mod Io ho solo 4 stelle Bello Va bene E devo raggiungere la cima Capito Se solo mi permettesse di farlo Tra l'altro volevo anche costruire Questo grattacielo a minecraft Ho già costruito Il Burj Khalifa Ma voglio costruire anche questo Ci sono alcuni tutorial su youtube Qua vi porto sul canale Tutti i miei lavoretti A minecraft Promesso Nooo Un altro Questa è casa Ciao Mi rischia anche la prima o poi Che sudata Devo andare sicuramente A prendermi un po' di vita Ok Beh E' più in là di qui Ok Ok Madonna come va Lento Spero solo di non schiantarmi Una volta arrivato a terra Però tipo Atterrarsi su un boulevard Sarebbe perfetto Ma è pixelato E ragazzi Sto registrando un 4k Ogni tanto il mio pc Svalvola anche lui A posto Ho tirato in piedi 66% Troppi danni Poca precisione Però Più tempo è caduta libera Potevo assolutamente farlo Però Va bene così Va bene così Io ragazzi Allora a questo punto Vi saluto Lasciatele al video Iscrivetevi al canale Con Luis Lopez Ci vediamo però Prima di staccare La chiamata Questo qua è A posto ragazzi Allora come detto Like iscrizione Noi ci vediamo Alla prossima Sempre con Yusuf Sarà la terza Su tre Da Adria è tutto Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima